L'inchiesta su questo rigurgito del terrorismo è partita dopo l'arresto dei giorni scorsi a Roma del neo-brigatista Antonio Fosso. Canne del calce con la cola, che si sacca, ostia! Dio, con un altro can, guarda che roba, la cola attacca le calce, che guarda! Dio, signor, che Dio! Ma Dio, ma Dio, le si stacca con la cola e non le si stacca, ma è una roba, guarda! Cosa, che cazzo che è qua sotto? E per finire il ciclismo, tre sole gare domani sulle strade della nostra provincia, gli allievi correranno a Mancalacqua di Luganiano, gli esordienti saranno di scena a Vigazio, e i giovanissimi, invece, saranno impegnati a Povelliano. E con questo... Dio! In primo piano la Tecnocop Verona, che ieri ha terminato la fase eliminare, porco Dio! Madonna di Dio, cane! Mi tocca rifare tutto da capo! Ostia, non venite dentro! Non venite dentro, mi hai distratto! Dio buono, de Dio! Dio buono! Dai, ricominciamo da capo, dai! Dai, andiamo dalla sigla, dai! Domani a Zulico si svolgeranno gli accoppiamenti... Basta, basta Dio! Basta! Dai, va là, dai, va là! Dai, va là! Ripartiamo subito, dai! Ripartiamo subito! Ripartiamo, ripartiamo! Ripartiamo, ripartiamo! Ripartiamo! Tocca ferro! Sulla terreno delle pallasporte di Piazzale Olimpia, nel campionato Dio 2 di basket, a spese della Fantoni Udine, Diciamo che il conteggio di Ocane, no, no, di chi, di Petti, Tampi, Blanchi, poi andiamo da capo, Aguillera ha ottenuto gli arresti domiciliari, l'uruguayano che deve rispondere dell'accusa di favoreggiamento della prostituzione, Basta il culo! Consolidando pertanto le sue quotazioni in prostituzione, saluto! Porco mio! Ma chi è che è il monaco che batte la porta e che chiude urlando? Dio di Geruda! Ah, non lo so io! No, Dio di Geruda, Dio! Anche nella nostra città, in fatti, ci sono... Dio porco! Perché mi prendi i motoni? Perché chi è che c'è nella porta? Dio Cane! Che c'è nella porta? Nessuno! No, nessuno! Gesù Cristo, no, nessuno! Dio! Dio Cane, una donna! In primo piano, il calcio, per beneficio Dio schifoso Cane. 83-82 il punteggio in favore dei giganti di Bucci, i quali si sono, vedete, si sono rivelati particolarmente in precisione al tiro, e fumosi nel sviluppare le manovre offensive. In classifica, la Graxo ha sempre sei vantaggi... Dio porco! Dio ha sempre sei vantaggi di lunghezza. Vaffanculo, dai, va là! L'Avvocato Marco Bisagno ha precisato che considera l'Assemblea di quest'oggi irregolare, quindi la minoranza procederà per le strade di ordine burore. Vaffanculo, Dio Cane, Dio Cane, Dio Cane, Dio Cane! Madonna putana! Il magistrato ha già nominato un curatore fallimentare, e il commercialista Gianfranco Bertani, ex... ex... vice... Dio porco! Dio Cane! Ex vice sindaco! In Coppa delle Cuppe, la Shantodoria... Dio porco! Tutte le volte che parto... Madonna di Dio! Mentre la Juventus è virtualmente qualificata dopo il 4 a 0 ottenuto nell'andata, affronterà a Torino l'Austria-Vienna. Porco Dio! Gli ocane! Dio Cane! Mi facciamo subito! L'Austria! Vaffanculo! Ventilata dalla Invest che in un primo momento aveva individuato nell'ex sindaco Gabriele Sbuorina, ex... Dio porca madonna di Dio! Vaffanculo! Vaffanculo! Se non bestemmio, guarda, se non bestemmio, riproviamo perché Dio, 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 bubu, avete girato le foto, sì, facciamo le tennis, per ricordare che sarà la finale femminile tutta dell'Est, va fanno la via, porco, madonna putana, sorpresa ha suscitato la scolifica inflitta per un turno a Celeste Pim per quel che riguarda, orco Dio, stavo pensando, sentendo, ma vediamo il quadro completo, Brescia, Foggia, Caleri, Roma, Fiorentina, Milan, Genoa, Atalanta, Inter, Dio, porco di Dio, Genoa, Atalanta, vaffanculo, madonna, perché ho tanto tempo anche, Dio.